Questa è una prova a non ridere, ho tre vite e la farò con l'acqua Ah che bello queste prove a non ridere, cioè in questi video vedo di tutto Animazioni di Youtube Kids, animazioni di Garden of Bamban, animazioni di Capibara Capibara, 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 Capibara Ce la farò a non ridere, con l'acqua in bocca Per questo ho preso la carta igienica Lo so è uno scoltex, fate finta che sia una carta igienica Perciò ragazzi ogni iscrizione ed ogni like a questo video equivale ad un iPhone 14 pro per voi Cioè vedi te se io devo fare queste cose con l'acqua, intanto mi preparo l'acqua Allora benvenuti su Youtube, ci sono tantissime animazioni belle No ti prego, no che non mi posso già iniziare a ridere io Va bene ci sono tante animazioni belle, tra cui Bing Ma il compagno di Bing si chiama Bong No 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 Io direi di vedere Mr. Rain contro Kenny Fatemi una brechiera Ci avete mostrato il massimo di ciò che gli eroi sanno fare La prima delle due persone Posso non... cioè devo ridere Ma perché il super eroe mi cato Va bene, siamo pronti? Acqua alla mano Non scorderò mai le parole di mio nonno prima di morire Ceni ferma questa cavolo di scala Povero nonno Pino che è caduto dalla scala fatta di Pini Caro, ma quanto ci metti a tornare a casa? Scusami amore, è che sono inchiodato nel traffico Oh no 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 Lei è in buone mani Grazie dottore Ehi Siri, cerca trapianto di cuore tutorial È il momento di fare una preghiera al povero Gianfranchio Che purtroppo ci sta per lasciare Franco Come mai sentite sempre freddo d'inverno? Perché siamo mezze maniche Amore, per me sei come una panessa Che cos'è una panessa? Cos'è una panessa? Non ridere Non potresti rischiare la vita Sei un incrocio tra un panda e una leonessa E tu per me sei un incrocio tra un coyote e un leone Cioè un coyote? Ce la posso fare ragazzi Per a tu se non è imbattibile Si può battere, lo so io Qua ci perderò sicuro una vita, vi prego Ti voglio tanto bene Mi hai fatto pure un'animazione Cosa dice un asino che ha una sirena sulla schiena? I oh, i oh, i oh Oh ragazzi sono solo passati 55 secondi dall'inizio di questa prova Non ridere, è già un rischio dalla vita 45.000 volte Ragazzi tenetevi pronti perché interrogerò mercoledì Uffa Lo sapevo Lo sapevo Che diceva per cui No No Vabbè, ma è una vita Oh, ne ho altre due Dai, ce la posso fare Sorseggiamo la nostra tazza di tè Non è vero mai però La canzone dei Queen cantano due funghi che hanno appena vinto una gara We are the champignon Ti voglio un sacco bene ma ora Mr. Rain contro Kenny Chi vincerà la sfida? Chi ha fatto fuori Kenny? Mr. Dì la verità Marco, sei tu il colpevole Pensavi che Kenny avesse due vite e l'hai fatto fuori Ma più che Marco Vengoni, quello mi sembra John Wick È l'ultima canzone Io non farei mai una cosa del genere Sono superiore a queste cose Ma ragazzi, chi è stato a killare Kenny? Mr. Pioggia? Can you read? Posso vedere le mie battute almeno Kenny ha scritto superiore Però lui c'è una pistola Però il fumo esce da qua Quindi l'altra mano che non si vede magari potrebbe averla anche lui Quindi è stato Mr. Rain Pera, ho resistito adesso, dammi una mela Ok, sto scherzando Scusa, Pera, scusa Cioè, ma pensate che io non possa resistere a questi video Cioè, io potrei anche resistere a questo video qui Questo è caldo, questo è freddo No, ma io sono curioso di vedere il livello delle canzoni Vediamo Il migliore di conto è che non è solo un conto Poter pagare gli F24 online mi ha... Vuoi un conto? Dove l'hai fatto? Su un conto! Dove si sprede? Non posso vivere oggi Stai attento Gianni Questo è il tuo granchiotermometro Non posso ridere! Stai attento Gianni Cioè, perché quello è il tuo granchiotermometro Da quando esiste un granchiotermometro? Quando diventa blu vuol dire che è freddo La sabbia è molto calda Oh sì, caldo Il granchiotermometro Il granchiotermometro Non puoi andare scalzo Il granchiotermometro Il granchiotermometro Il granchiotermometro Il granchiotermometro Il granchiotermometro Il granchiotermometro Non posso resistere? Ce la posso fare? E poi andiamo a vedere anche i video Di gatto o papà Di mercoledì Già io sto morendo così Ogni volta che prendo questo bicchiere Cavolo Nuovo video Faccio pi... Non posso andare a scacchio Guarda Gianni, il tuo cranchio è diventato Tabbia è fredda perché l'acqua l'ha raffreddata È solo un video, c'è un video con un bambino che si chiama Gianni Io sono Gianni Claudiatore Cioè ma il pari è proprio stupido Cioè ha lasciato il cranchio là e quello se ne sta andando alla deriva Ma no, povero Gianni Non avrà più un cranchiometro Ce la posso fare, ce la posso fare Non posso perdere la mia seconda vita su sto video Adesso il cranchio è blu, il che significa che la sdraio è fredda Così non ti scoppi quando ti ci siedi Sì è fredda È una guria No dopo questa, dopo questa, guarda io non ci voglio credere Non voglio vedere il capibana ragazzi Ho bisogno di capibana nella mia vita Dove perderò la mia seconda vita? Attenzione, Samuel L'hamster Meme Ok c'è un cricetino che è carino Troppo bello Ragazzi ma quanto sono carini capibara Guardatelo Non lo so, è una specie di cas... Castoro che ha scorreggiato Ma ragazzi io diria di andarci a vedere dei video qua, degli shorts Perché ce ne sono un sacco che mi stanno facendo morire Tipo il gatto con gli stivali glue up Però iniziamo vai Mamma mia Il nostro gatto con gli stivali è diventato un c'addone Cioè ma guardate che muscoli possenti che ha Comunque ne abbiamo tantissimi Abbiamo pure i Garten of Bamban No No Ok, questi sono i Garten of Bamban piccoli, dolci e carini Ma tra poco Come saranno? Ti mostri! Ora capisco perché si chiama il diavolo Direi di aumentare il livello di divertosità Andiamo negli shorts E speriamo che ce la buttino bene Ficcio 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 Meno male che ho trattenuto Ma non è normale questo video Ma non è normale questo video Ma che schifo con la coda Va bene a questo punto Ma non è normale che mi rimane l'ultima vita Andiamo a vedere il video che si chiama il video di Garten of Bamban Perché praticamente Gregory è diventato un pork Si mangia tutte cose si mangia Si mangia tutte cose si mangia Va bene qua bevo l'acqua Scappate mio pupila Che ci fatela? Scappate! Ah ok No L'ho preso No Ah se lo sta solo accarezzato Oh che carini No pila Caricamento Caricamento di cosa? Della boss fight Ma quello là si mette a cagare le uova ora Cioè i tuoi figli sono in pericolo E tu ne caghi altri di figli Cioè No 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 non ti fai a morire No Ho perso Mannaggia Ok ragazzi Io direi che questo video lo posso anche terminare qua Mi raccomando iscriviti al canale Se non lo hai ancora avanti Ho un sacco di pulizioni in su Qua il vostro non esiste è tutto E noi ci vediamo ad un prossimo video E Ciao 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 Ciao